Questo Natale tante famiglie hanno avuto una gioia per vestirci dei vestiti nuovi, quindi semplicemente vi diciamo grazie. Grazie, grazie. Grazie per la verità di tutto ci stai facendo, avete fatto una felicità per tutti i bambini qui in Siria, specialmente in Aleppo, uniti in la orazione. Grazie. Grazie per il vostro supporto usuale per mantenere la nostra famiglia felice in queste situazioni difficili. Grazie. Grazie per tutti i bambini che permette di essere impossibile, e tutto ciò 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 ciò. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.